cari amici non si finisce mai di stupire è incredibile covid usa astrazeneca ha fornito dati incompleti l'istituto nazionale statunitense eccetera 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 poi vedremo ma praticamente le autorità sanitarie degli usa accusano astrazeneca o quantomeno dubitano sul fatto che astrazeneca abbia offerto loro dati generici dati non sufficientemente seri per la sperimentazione in dubbio la sperimentazione effettuata su larga scala negli stati uniti in cile in perù del vaccino astrazeneca spero che si sia intravisto e poi comunque ne riparliamo vi invito naturalmente a cercare ricercare le notizie anche voi ognuno di noi deve fare un po di ricerca vedete le pagine del televideo media sette girano e poi ci siamo di nuovo soltanto un istante ci siamo e ve la inquadro ancora un momento eccola qua secondo la nisi della casa farmaceutica potrebbe eccetera 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 veramente clamoroso questa storia dei vaccini ci riserva sempre delle grandi sorprese direi quotidianamente anche questo è importante ricordiamo ancora una volta che il vaccino astrazeneca non è mai stato autorizzato in svizzera è tuttora sospeso e non viene somministrato in sette paesi importanti fra cui la svezia e la l'islanda sette paesi europei e anche in america sembra appunto che i dati forniti alle autorità sanitarie americane non siano completi è veramente incredibile vi invito ancora a iscrivervi al mio canale youtube se non l'avete fatto a controllare le iscrizioni se siete già iscritti perché youtube censura e toglie le iscrizioni e vi ricordo che anche mettere un like aiuta la diffusione dei contenuti grazie alla prossima